è full di gente andiamo lunghi abbiamo gente dietro sono in fondo alla cava ma non entra le casse rosse le pio raga voi prendete quelle blu cassa di piastre la trovate tiriamola subito quelli dietro secondo me vengono sono così matti non sarebbe entrare nella tana dei lupi qua c'è una maschera durevole qua c'è un altro UAV sono qua sotto sono tre qua sotto raga arrivo a sinistra questi tre sono veri ho scelto uno ho lasciato un altro non è questa stanza a qualche parte probabilmente ho preso questo siamo matti stiamo scherzando spero lo tiro subito UAV almeno me lo levo dal cazzo ok poche streak zio cane sapete non so come si risale tutte le volte mi perdo minchia zio guarda quanti soldi abbiamo comunque zio è assurdo questo posto mi ricordo dal primo periodo di Verdansk al periodo bugato di Verdansk quando andavi a Superstore uscivi con 100k minchia ma vi ricordate minchia mamma mia folle giuro zio era incredibile tu c'è Nagatomi il palazzone quello enorme anche quello era sì ma quello di Stora era un bug era ancora più assurdo zio uscivi con 100k non so se ti ricordi si è allucinante io no ho preso io il bengalo ho preso io ho preso io io un UAV gente qua davanti guardali qua avanti questo mi sa che è giù è giù infatti siamo quasi sotto sono back e buscio da sopra sono one shot le ospe si incastrano questi guardali sono di sopra sì sì sto sopra sono sopra bombardo è one shot è one shotissimo quello tra cazzo uno doppia doppia pulita pulita avete altri UAV scusate no UAV no zio c'hai il 13k ma perché cazzo non li compri perché ero pieno zio sono pieno di nuova ma lo compri e lo tiri dai veloce dai andiamo ma c'è gente tre persone alla nostra destra possiamo andare stanno salendo prendiamoli io mi allargo a sinistra bro tu parti lì da ok stanno sparando a me vi ero one shot uno a terra uno stanno laserando zio cane sono scesi non li vedo sono andati giù bro sono in questo uno qua uno è qua ok li vedo li vedo li vedo arrivo ho fatto uno bravi allora vado a finire che questo bastardo si resta finisci bravi bravi ragazzi bravi bravissimi vado a girare c'è una gente di riesco vogliamo fare c'è una gente da andare si si finiamole andiamo su ci abbiamo vicinissime eh si sono close sono close ho messato non ti tiro come uno shot un sbarritto la vecchia ma che è sagoso eh non lo vedo si è smoccato è pieno all'altezza io raga vedo due qua sono tutti e tre lì pingameli non è mezzo alla strada vittato ho tirato un bombard vediamo se li piglio in predict il predict e il martiz vediamo si è ho fatto un cecchino troppo poco stabile ho detto un colpo vittato uno stanno ruotando larghi stanno ruotando larghi in mare vittato uno sono tutti di sotto lo stanno ancora qua sotto viste ok ruotano da lì trattato a terra uno trattato un grappolo per bloccarli traccato un altro mancherebbe uno traccato un altro che è quello che rimane sai che si fa tutto il giro con la maschera ora occhio e però qua c'è la gente passata è passata è passata è passato nice andiamo 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 se volete ok c'è gente a sinistra minchia ce l'ho qui raga ma dove cazzo era giuro traccato zio traccato ti sei rimesso la tag dottore ma te veramente è le uno scusami no finca che bastardo giuro mamma mia ma cos'è di tuo dottore non ha nulla di tuo con la tag la non sei un dottore non ti appartiene non è niente quanta che abbiamo però uova viero ho presubito un uova se riesci c'è gente c'è gente qua all'armeria dove? sono dentro c'è gente anche sopra crack è uscito fuori sento esterni sento non è son dentro zio è uno e l'ho visto che andavo dalla porta però pietro uova al volo viero se riesci sì sono più di uno esce è top è top è sotto è sceso andiamo ho rotto il cazzo questo il balloon no il balloon il balloon team a destra team a destra qua le armi si godo io forse mi ballonerei andrei in safe leo vai dottor casto comunque vai se non è il ground ve lo sarei scappato un altro uov cazzo vai andiamo andiamo veloce veloce sparano altri cracate oh ninchia mi ha fatto un attimo ti atterra a testa tornato bravo e vabbè che cazzo sono dio è sul tetto sono tre zio c'hava i colpi che stunnavano sto figlio di troia ma quanti cazzo erano questi erano due team vengo da te comunque è vero vediamo se troviamo un punto ok forse una kill dove? andiamo all'oddi Dario vogliamo andare dove è che è? bordo safe si può fare? non ce la faccio non ce la faccio sono basso eh ma c'è un'altra gente leo eh attento non lo so non lo so non ho niente ho noccato uno e basta sto sparando di merda casa azzurra casa azzurra cazzo disperato non c'è un cazzo 2-2 sul cross stiamo passando ora uno one shot l'altro mi spara c'è uno arrivo dall'altra parte un altro ferito ferito mi è loccato è one shotissimo ve lo fate vedete anche con la terra dietro dietro c'è l'altro c'è l'ultimo presso Leo con la terra con la terra si resta magari sicuro? non lo vedo non si resta qua davanti eh dentro sotto sotto andiamo a prendere cazzo vai si è buttato si è buttato ce l'ho davanti si è buttato si davanti zio è andato dopo Bianco prende il camion lo possiamo laserare uguale vai eh si andiamo allo shop andiamo allo shop che compriamo roba raga ok c'è gente vicina alla rotonda li pinghiamo però sono buoni ce l'ho davanti ce l'ho davanti è entrato qua c'è anche quello del parco giochi fulla pure fulla pure è un altro addosso venite qui poi bravo ho fatto uno c'è un altro c'è uno qua singolo ha tirato il portatile deve restare facciamo questo al volo però andiamo fuori dall'area del guavira che cazzo è questo qui dove nello shop portatile in mezzo al mare ha restato in mezzo al mare ha restato eh allora l'ha rotto stanno notando lo vedo c'è anche un altro possiamo beccare quando volete becchiamo becchiamo è inutile perdere questo disperato c'hanno ripreso la rocca oh un team qua ce l'ho ce l'ho dove? belli oh qua in open uno crack qui da me qui da me ah fuck ce l'ho proprio a fianco eh fatto uno un outer uno sopra sopra bravi prese bravi pieni di bengalone anche sotto pieni di bengala belli bengalone mi piace tiro altro wav aspettate oh questi bei bengala qui è sopra di me mi sa mi sa che è il primo piano raga qua nella rotonda andiamo? è che sono più di uno forse era un full go allora la rotonda bro due una seri sopra due sopra sbaglio tira il bombardamento aereo tira il bombardamento aereo aspetta che non posso ok li ho tirato sopra mi hai fatti muovere tutti i belli one uno lo ha knockato gli spanno da destra sono mossi tutti eh il mille veri dal cazzo qui ve lo dico eh mi avvicino ho fatto uno uno ancora top preso preso si resta lo fullo uno dietro uno va sopra uno va sopra portai su di noi tira un bombardamento appena posso 14 secondi c'è uno fuori raga becchiamo di là andiamo alla rocca c'è altrimenti alla rocca raga finiamo 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 non free kill tieni qua hop è full ed ghiacciato li tira un bombardamento ma top qua ancora torniamo pure torniamo pure torniamo pure passati muni venite per enti alle granate se vi servono raga chiudete in realtà possiamo stare qua possiamo stare qua sul tetto c'è ancora gente ho cato uno al blu sullato anche qua nel cespuglio è vicino all'acqua vicino allo shop no niente non aiutabile landa gente landa sopra di noi probabilmente qua al castellino one shot knockato knockato ma no ma perché questo cecchino lo usi venite su questo dove sono io almeno uno raga venite che è top questo punto possiamo anche non stare tutti e tre qua sopra in realtà uno sotto secondo me ci stare io c'ho il cieco però non comodo guarda Dario Dario guarda me guarda me due persone guarda me il gioco tira un ma dai è rimbalzato è landa uno qui non è stato ancora c'è il mondo la giura deve rossare giuro ma che cazzo morto uno qua non so a chi sparare ho la pick su tutti c'è uno qua dietro al muretto due uno one shot gente sotto di noi ce l'abbiamo sotto preso un altro one shot one shot un altro one shot un altro nice qua al muretto uno da dietro oh da dove mi sparano figa non li vedo neanche vero muretto uno ok avrei bisogno di una R se ne trovate uno poi eh forse sai che guarda in terra guarda in terra guarda in alto c'è il bordello preso quello un altro qua preso dentro blu dentro blu ci sta vadendo madre mia ragazzi c'è il panico c'è il panico giuro aspetta devo tirare una cassa muni gente che le anda qua ancora dentro blu sotto one shot blu sotto da safe giro da loro dobbiamo girare in qualche maniera siete pronti? c'è me uno sotto io li farei avanzare questi sotto uno qua accanto a me preso bravo Viero era l'unico boh si era un singolo c'erano altri qua però secondo me in questa casetta questa casa di fronte a noi Dario aspetta davanti via sono da sotto alla destra sono in due qui dentro Viero sono tre sono tre sono tre fatti uno fatti due manca l'ultimo manca l'ultimo mamma mia che trombata che si è preso la gente va a mia destra mi stanno holdando mi è vicino mi stanno mi stanno holdando da blu mi va da terra una smoke una smoke una smoke una smoke aspetta non so se ci arriva però mi resta mi resta mi resta nice tiro un bombardamento li vedo guardate te Dario li ho già bombardati ne ho knockato uno bury bury si è restato berro qua pullato c'è l'altro da me l'altro da me una mano una mano ho fatto una cazza sono un coglione ce ne sono nella safe tre ragazzi tre nella safe i feriti ma cosa sto vedendo preso un altro manca l'ultimo manca l'ultimo un altro mi sto piaccendo oh ci avete un mengala per restare si 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 tira su io arrivo sopra di noi anche in mezzo all'open ce l'abbiamo sopra al supermercato mi pusha Dario mi pusha aiuto Dario porco due no mi ha shottato con le pistole a kimbo c'è uno in volo va sopra il supermercato è sopra il super uno è qua è qua dietro dietro la cazza dietro la cazza pochi punti però sta partita che casino lì non devo provare a farmeli minchia ma ho detto provare a sare mamma che botteva no non potevi non potevi un casino minchia ho sbagliato io non devo andare a terra non devo restarti leova che altro perché ho visto che era atterrato sopra cioè me lo potevo fare vai raga ma quanto chi l'abbiamo fatto ha vinto io tipo 4 ordici mi sa oh io sono praticamente i cremisi raga ci sono comunque con lo spot che avevamo sopra brutta call quella venite sul tetto che avevamo sopra